Un evento importante non solo per Francavilla ma per tutti gli amanti della cultura, dell'arte, della storia, della crescita turistica in una terra che ha tanto da offrire al movimento turistico non soltanto europeo. Quindi è una giornata particolare, mi compiaccio con l'amministrazione comunale, con le strutture della regione, dei beni culturali che hanno sostenuto, supportato e qualificato la iniziativa.